I Cognani, Anna Savini Ed è un pulpurì di danza, entreranno le coppie Grazie Bruno, sì, proprio quello Torniamo in Romagna, torniamo a casa nostra, torniamo al folklore dopo l'esibizione del maestro Polini Vano Vai pure con la base musicale ed è una collase alla romagnola Ed è vita nuova, Giorgio Luana Lina, coreografia, i Fantasy Folk Vita nuova Giorgio Luana e il Fabio di Folk Ed è sempre un brano di secondo che c'è dei E dopo a vita nuova è della volta di Femmina Bionda E si parte il primo trio Femmina Bionda Femmina Bionda Ed è tempo di Polka alla Diavola Ed è la volta di Medio Roberta, Alvise Emanuela, Gabriele, Federica, Fabio, Cristina Poi partono Luca e Milena, Ivana Emanuela, Stefano Tamaran, Massimo Claudia, Paolo e Elena Ed è il primo trio e sono i passettini variati E andiamo con i passetti E l'atmosfera si incendi è assaltata a sinistra Fuoco E l'atmosfera si incendi è assaltata a sinistra Alla Fabio Vai, Gabriele Alla Polo Do Ale tutta Putpuri di brani alla Romagnola Grazie signori Bravissimi Continuiamo con i ballerini I ragazzi le fruste di